Oggi è domenica, raccolto a prugne, fammi ingrandire un po', sì, no, un po' più piccolo, vabbè, sì, è che secchi. Non nemmeno Couple,15 cilindr. che è benissimo e qui è un guarda la rossa e qui è un guarda la rossa e qui è un po' e qui 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 ci vediamo ci vediamo sposto che si vede meglio o si si vedo ok siamo nella scala un po' si è accoppalata ma c'è una parecchia e qui c'è un po' 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 un pegui e qui c'è un po' a posizionamento non ti è ACCORDO Non bisogna aspettare il massimo della maturazione. Il massimo della maturazione è veramente buono, buono, buono e buono. Questo è quello che vi cammina, c'è l'ineralità, l'ostra, fanno bene alle ossa. Allora, ecco a poco che ci stanno, stanno tutti vicino da qui. E' un po' qui sotto. E' un po'. Iec, iec. Vabbè, stanno tutti questa ecco soltà. Fai via questa ecco soltà che stanno tutti vicino. E' quasi pieno. E' un po' qui. E' un po' qui stanno? E' un po' qui stanno? E' un po' qui. E' un po' qui. Niente. E' un po' qui. E' un po' qui. E' un po' qui. queste quando portano al mercato le devono raccogliere necessariamente c'erba acerbe quindi sparisce la patina dal produttore al consumatore e le raccoglio e me le mangio veramente questa porta una parente oggi è domenica